Hi everybody! Benvenuti alla quinta lezione del mio corso d'inglese per principianti. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi al mio canale per essere aggiornati su nuovi contenuti e a lasciare un like su questo video. Vediamo gli argomenti di oggi. Per la parte relativa al vocabolario impareremo gli animali e alcuni aggettivi. Per la parte grammaticale vedremo che gli aggettivi in inglese si comportano in modo diverso rispetto all'italiano. Successivamente vedremo come si coniugano e come si usano i verbi have and have got. Passeremo quindi ad un esercizio di speaking, ad uno di listening. Infine, concluderemo la nostra lezione con la lettura e la comprensione di un brano sui temi trattati precedentemente. Are you ready? Siete pronti? Let's start! Cominciamo! Passiamo in rassegna gli animali. Vi raccomando, ripetete insieme a me per memorizzare i vocaboli e per migliorare la pronuncia. Il primo animale è cow, cow, cat, cat, birds, birds, fish, fish, dog, dog, horse, horse, rabbit, 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 pig, pig, sheep, sheep, turtle, turtle, turtle. Adesso esercitiamoci. In questa slide dovrete completare le parole che trovate sotto le immagini con le lettere mancanti. L'obiettivo di questo esercizio è quello di imparare la forma scritta delle parole. Per svolgerlo mettete in pausa il video e quando avrete finito lo correggiamo. Siete pronti? Ok. Come si scrive cow? Exactly. Con la W. Poi abbiamo cat, birds, fish, dog. Andiamo avanti. Anche qui mettete in pausa il video e continuate. Horse si scrive? Exactly. Horse, così. Poi abbiamo rabbit, pig, turtle, and sheep. Molto bene. Andiamo avanti. Qui invece sotto le immagini dovrete inserire le parole corrispondenti. Potete aiutarvi guardando le parole che troverete nel rettangolo verde. Quindi abbiamo cow, cat, birds, fish, dog. Poi abbiamo horse, rabbit, pig, sheep, and turtle. Facile, no? Easy, right? Continuiamo ad arricchire il nostro vocabolario imparando alcune coppie di aggettivi. Cominciamo con big, ovvero grande, e small, piccolo. Ripetete insieme a me per memorizzare le parole e migliorare la pronuncia. Quindi abbiamo big, grande, small, piccolo. Poi abbiamo tall, alto, short, basso, tall, short. Poi abbiamo fast, fast, veloce, slow, slow, lento. Very good. Abbiamo concluso la parte relativa al vocabolario. Passiamo a quella grammaticale. Vediamo adesso alcune peculiarità degli aggettivi in inglese. A differenza dell'italiano, gli aggettivi in inglese sono invariabili rispetto al numero. Facciamo qualche esempio. La stessa cosa vale per il genere. Facciamo qualche esempio. Come vedete, anche in questo caso, l'aggettivo big rimane invariato. Sia nel caso della mucca al femminile, sia nel caso del cavallo al maschile. Un'altra peculiarità degli aggettivi, alla quale prestare molta attenzione, è la loro posizione all'interno della frase. Perché questi possono essere in posizione predicativa, ovvero dopo il verbo, oppure in posizione attributiva, prima del sostantivo. Vanno in posizione predicativa con i verbi be, ovvero essere, seem, sembrare, look, guardare, o become, diventare. Facciamo qualche esempio. In questo caso, l'aggettivo in inglese assume la stessa posizione degli aggettivi in italiano. Il coniglio è bianco, anche qui, quindi si trova in posizione predicativa. In posizione attributiva, invece, vanno posti prima del sostantivo e non dopo, come accade in italiano. Vediamo gli esempi. Come vedete, l'aggettivo precede il sostantivo. Il coniglio bianco è veloce. Tutto chiaro? All clear? Andiamo avanti. Fill in the gaps with the correct adjective. In questa slide dovrete completare le frasi inserendo negli spazi vuoti gli aggettivi corretti che trovate nel rettangolo verde. Ormai lo sapete. Mettete in pausa il video, svolgete l'esercizio e poi lo correggiamo insieme. Ready? Pronti? Number one. The turtle is slow. The turtle is slow. La tartaruga è lenta. Number two. The horse is tall. Tall. Quindi il cavallo è alto. Number three. The cat is small. The cat is small. Il gatto è piccolo. Number four. The sheep is short. The sheep is short. La pecora è bassa. Number five. The rabbit is fast. Veloce. Quindi the rabbit is fast. Il coniglio è veloce. Number six. The cow is big. Quindi la mucca è grande. Very easy. Molto semplice, vero? Come potete notare, in questo esercizio gli aggettivi sono tutti in posizione predicativa, perché sono posizionati dopo il verbo essere. Translate the sentences. Traducete le frasi. In questo esercizio dovete tradurre queste semplici frasi. Avete tutti gli elementi per farlo. Conoscete i vocaboli, gli aggettivi e la loro posizione. Mettete in pausa il video e svolgete l'esercizio. Passiamo alla correzione. Number one. Il maiale grande è veloce. The big pig is fast. Come potete notare, qui l'aggettivo big è in posizione attributiva, perché precede il sostantivo pig. Mentre l'aggettivo fast, veloce, è in posizione predicativa, perché va dopo il verbo essere. Number two. Il cavallo marrone è basso. The brown horse is short. Very good. Number three. Il cane vecchio è lento. The old dog is slow. Number four. La pecora nera è grande. The black sheep is big. Number five. L'uccello bianco è piccolo. The white bird is small. Number six. Il pesce verde è veloce. The green fish is fast. Very, very good. Let's go on. Continuiamo con l'altro argomento di grammatica. I verbi have and have got. Vediamo come si coniuga il verbo have. Nella sua forma affermativa abbiamo I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Facciamo qualche esempio con il verbo avere inserito in una frase. Passiamo alla sua forma negativa. Come potete notare la forma negativa del verbo to have si costruisce con soggetto, ausiliare do, che alla terza persona diventa does, più la negazione, più la forma base del verbo have, per tutte le persone. Quindi I do not have, you do not have, he does not have, she does not have, it does not have. La sua forma contratta invece è I don't have, you don't have, he doesn't have, she doesn't have, it doesn't have. Quindi nella forma contratta l'ordine rimane invariato ma andiamo a contrarre l'ausiliare do con la particella not. I do not have two dogs, io non ho due cani. He does not have a cat, lui non ha un gatto. They do not have a horse, loro non hanno un cavallo. Ricordiamo che tra la forma estesa e la forma contratta non cambia assolutamente nulla. L'unica differenza è che la forma estesa si utilizza molto di più nei contesti formali, mentre la forma contratta è più utilizzata nei contesti informali. Vediamo adesso la forma interrogativa del verbo to have. La forma interrogativa si costruisce invertendo l'ausiliare con il soggetto. Quindi abbiamo ausiliare, soggetto e forma base del verbo. Facciamo qualche esempio. Do I have two dogs? Ho due cani. Lui ha un gatto. Passiamo adesso a have got. Si tratta sempre del verbo avere, ma con l'aggiunta della parola got. Questa parola non è altro che un rafforzativo usato per esprimere il concetto di possesso. Vediamo intanto come si coniuga e successivamente approfondiremo le differenze tra have and have got. Quindi, la sua forma affermativa si costruisce con soggetto più have got. I have got, you have got, he has got, she has got, it has got, we have got, you have got, they have got. Ricordatevi sempre che alla terza persona, have diventa has. La sua forma contratta. Uniamo quindi il soggetto col verbo have. Facciamo qualche esempio. I have got two dogs. Io ho due cani. He has got a cat. Lui ha un gatto. They have got a horse. Loro hanno un cavallo. I've got two dogs. Io ho due cani. He's got a cat. Lui ha un gatto. They've got a horse. Loro hanno un cavallo. Come vi ho detto poco fa, la forma estesa si usa nei contesti formali, mentre la forma contratta è più utilizzata nei contesti informali. Vediamo adesso come si costruisce la forma negativa del verbo have got. Abbiamo soggetto, have, la particella che introduce la negazione not, e infine got. Attenzione, a differenza del verbo to have, per costruire la forma negativa, non utilizziamo l'ausiliare do. Quindi, I have not got, you have not got, he has not got, she has not got, it has not got, we have not got, you have not got, they have not got. Nella forma contratta uniamo sempre il verbo avere con la particella not. Quindi diventa I haven't got, you haven't got, he hasn't got, she hasn't got, it hasn't got, we haven't got, you haven't got, they haven't got. Facciamo qualche esempio. I have not got two dogs, io non ho due cani. He has not got a cat. Lui non ha un gatto, and they have not got a horse. Loro non hanno un cavallo. I haven't got two dogs, invece, per la sua forma contratta. He hasn't got a cat, they haven't got a horse. Quindi, io non ho due cani, lui non ha un gatto, loro non hanno un cavallo. Bene, anche per la forma interrogativa non abbiamo bisogno dell'ausiliare do, basta invece invertire il verbo con il soggetto. Quindi, la forma interrogativa del verbo have got si costruisce con have, verbo, I, soggetto, and got, rafforzativo. Quindi, have I got, have you got, has he got, has she got, has it got, have we got, have you got, have they got. Facciamo qualche esempio. Bene, abbiamo visto una per una le forme affermative, negative e interrogative, dei verbi have and have got. In questa slide trovate tutte le forme del verbo have in un unico schema. Ed in questa, tutte le forme del verbo have got. Così avrete la possibilità di rivederle con maggiore facilità. Adesso, vediamo le differenze tra have and have got. Come e quando si usano. Have si usa per esprimere il concetto di avere o di possesso. Esempio. I have a sister. Io ho una sorella. Oppure I have a bicycle. Possiedo una bicicletta o una bicicletta. Si usa anche per esprimere il concetto di dovere. Per esempio, I have to go to school. Io devo andare a scuola. Si usa anche quando parliamo di un'azione. Quindi, I have lunch. Io pranzo. Oppure, I have a shower. Io faccio una doccia. Per la forma negativa interrogativa, come abbiamo visto nella coniugazione, ha bisogno dell'ausiliare do. Quindi, you don't have a sister. Tu non hai una sorella. Do you have a bicycle? Hai una bicicletta? Vediamo invece quando si usa have got. Si usa per esprimere il concetto di avere o di possesso, proprio come to have, il verbo avere. I have got a sister. Io ho una sorella. I have got a bicycle. Io ho una bicicletta. In maniera indistinta. Inoltre, si usa solo al presente e mai al passato o al futuro. Quindi, questa costruzione con have got si utilizza solo al presente. She had got a bicycle. She will have got a bicycle. Quindi, passato e futuro, non si utilizza mai have got. Infine, per la forma negativa interrogativa, non ha bisogno dell'ausiliare do. Quindi, you haven't got a sister. Tu non hai una sorella. Have you got a sister? Hai tu una sorella? Chiaro? Bene. Adesso, esercitiamoci un po'. In questa slide, dobbiamo mettere in ordine le parole per formare le frasi. Unscramble the sentences. Come sapete, mettete in pausa il video e svolgete l'esercizio. Are you ready? Passiamo alla correzione. No. Number one. She has got a big dog. Le ha un grande cane. Number two. I have two red pens. Io ho due penne rosse. Number three. Have you got any pets? Hai degli animali domestici? Number four. Tom and Bob haven't got a pet. Tom and Bob non hanno un animale domestico. Number five. We don't have an umbrella. Noi non abbiamo un ombrello. Number six. Do you have a jacket? Hai una giacca? Come è andato questo esercizio? Benissimo. Let's go on. Qui invece dovete trasformare le frasi nella forma richiesta che trovate tra parentesi. Quindi. John has got a gray cat. Diventa. John hasn't got a gray cat. Quindi John non ha un gatto grigio. Number two. She doesn't have a pet. Diventa. Does she have a pet? Lei ha un animale domestico? Number three. My friend has two rabbits and a turtle. My friend doesn't have two rabbits and a turtle. Quindi il mio amico o la mia amica non ha due conigli e una tartaruga. Number four. They have got two brown horses. Diventa. Have they got two brown horses? Hanno loro due cavalli marroni? Benissimo. Great job. Ottimo lavoro. Abbiamo concluso la parte relativa alla grammatica. Passiamo adesso allo speaking. Adesso leggerò questo dialogo per due volte. Ripetetelo insieme a me e provate a memorizzare queste frasi di uso comune. Ci serviranno per l'esercizio successivo. Adesso rileggiamolo e ripetete insieme a me. Do you like animals? Yes, I do. What's your favorite animal? My favorite animal is a horse. Have you got a pet? Yes, I have got two dogs and a cat. What are their names? Their names are king and princess. How old is the cat? How old is the cat? The cat is three years old. Very good. In questa slide dovrete inserire sotto le domande che trovate a sinistra le risposte corrispondenti che trovate nella parte destra. Svolgete l'esercizio e poi lo correggiamo insieme. Quindi, number one. Do you like animals? Va con la lettera D. Yes, I do. Quindi, ti piacciono gli animali? Sì, mi piacciono. Number two. What's your favorite animal? Va con la risposta... La lettera è A. My favorite animal is a horse. Quindi, alla domanda... What's your favorite animal? Qual è il tuo animale preferito? Rispondiamo. Possiamo rispondere... My favorite animal is a horse. Il mio animale preferito è il cavallo. Number three. Have you got a pet? Va con la risposta... E. Yes, I have got two dogs and a cat. Quindi, alla domanda... Hai tu un animale domestico? La risposta è... Sì, ho due cani e un gatto. Number four. What are their names? La risposta è... B. Their names are king and princess. Quindi, alla domanda... Quali sono i loro nomi? La risposta è... I loro nomi sono king and princess. Number five. How old is the cat? Quindi... Abbiniamo la risposta... The cat is three years old. Quindi, alla domanda... Quanti anni ha il gatto? La risposta è... Il gatto ha tre anni. Very, very good. Molto, molto bene. Abbiamo concluso la parte relativa allo speaking. Concludiamo la nostra lezione con un esercizio di ascolto e di lettura e comprensione di un brano. Adesso leggerò questo brano due volte. Il vostro obiettivo è quello di scrivere le parole mancanti. Ovviamente si tratta dei vocaboli, degli aggettivi e dei tempi verbali che abbiamo studiato in questa lezione. Quindi, drizzate le orecchie. Open up your ears. My pets. My family and I love animals. We have got four pets. A dog, whose name is King. Two cats. Honey and Peach. And a bird named Fly. King is my best friend. King was a present from my parents when I was six years old. He is twelve years old now. He is old and slow. But when he was younger, he was fast. Honey and Peach are two small cats. We found them newborn on the street about a year ago. We chose Honey because he has a yellow sign on his head. And Peach has an orange sign on her back. My sister has a white rabbit. His name is Roger. He follows her everywhere she goes. And eats a lot of carrots. My brother instead, since he went to college, Hasn't got any pets. Because it's forbidden to have pets. My pets. My family and I love animals. We have got four pets. A dog, whose name is King. Two cats, Honey and Peach. And a bird named Fly. King is my best friend. King was a present from my parents when I was six years old. He is twelve years old now. He is old and slow. But when he was younger, he was fast. Honey and Peach are two small cats. We found them newborn on the street about a year ago. We chose Honey because he has a yellow sign on his head. And Peach has an orange sign on her back. My sister has a white rabbit. His name is Roger. He follows her everywhere she goes. And eats a lot of carrots. My brother instead, since he went to college, hasn't got any pets. Because it's forbidden to have pets. Siete riusciti a scrivere le parole mancanti? Andiamole a vedere. Have got dog, cats, bird, slow, fast, small cats. He has, has, has rabbit and hasn't got. Very good. Andiamo avanti. In questa slide potrete rileggere il brano. Cercate di comprendere il senso generale perché successivamente dovrete svolgere un esercizio di comprensione. Prendetevi qualche minuto mettendo in pausa il video. Bene, qui trovate quattro frasi sul brano che abbiamo appena letto. Dovrete capire se queste frasi sono vere o false. Mettete in pausa il video, svolgete l'esercizio e poi lo correggiamo insieme. Are you ready? Siete pronti? Let's start. Number one. This family has got four pets. True or false? True. Quindi questa famiglia ha quattro animali domestici. Vero. Andiamolo a vedere nel testo. Io e la mia famiglia amiamo gli animali. Abbiamo quattro animali domestici. My family and I love animals. We have got four pets. Number two. They have got a dog, a cat and a fish. True or false? False. Quindi loro hanno un cane, un gatto e un pesce. È falso. Vediamolo nel testo. Perché? Perché loro hanno un cane, a dog, two cats, due gatti and a bird. È un uccello. Number three. Peach has an orange sign on his back. True or false? True. Quindi pesca, peach, ha un segno arancione, una macchia arancione sulla sua schiena. Vediamolo nel testo. Peach has an orange sign on her back. Quindi peach ha un segno arancione sulla sua schiena. Number four. The brother has got a turtle. Quindi è true or false? False. Quindi il fratello ha una tartaruga. Falso. Vediamo. My brother hasn't got any pets. Quindi my brother, mio fratello, non ha animali domestici. Very, very good. Abbiamo concluso la quinta lezione di questo corso d'inglese per principianti. Vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale per essere aggiornati su nuovi contenuti. Continuate a lavorare. Keep working. E ci vediamo alla prossima. See you next time. Bye bye.